Ancora polemiche a Roseto, soprattutto con l'inizio della stagione estiva, sulla questione migranti alloggiati presso il Residence Felicioni. Maggioranza e opposizione non se le mandano a dire, anche se su un punto si trovano d'accordo. Il Residence e la sua posizione invitano ad analisi più approfondite per individuare una diversa location. Noi come opposizione già tempo fa abbiamo sollevato delle criticità su quella che poteva essere una location sulla costa. Bisogna dire che in questi anni dal punto di vista della sicurezza non ci sono state problematiche importanti e oggi la situazione è comunque sotto controllo. Come amministrazione siamo in contatto costantemente anche con la prefettura e come amministrazione intendiamo sviluppare dei progetti che vadano ad integrare i ragazzi ospiti per progetti sociali, per progetti in merito alla cultura, allo sport e anche alla formazione. In passato i ragazzi sono stati partecipi di progetti che li hanno coinvolti nella pulizia e nella cura della città. A nostro parere non in maniera dignitosa in maniera formativa. Ecco bisogna ripartire da lì cambiando ovviamente cercando di costruire progetti migliori che vadano ad integrare queste persone ma allo stesso tempo restituire alla città ecco maggiore cura e maggiore sicurezza. Quindi c'è un monitoraggio continuo e gli allarmismi da parte di qualche oppositore ovviamente cerca di strumentalizzare un qualcosa che al momento non esiste. Francesco Di Giuseppe di Fratelli d'Italia evidenzia la problematica sulla sicurezza. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni nella zona da parte di balneatori, attività commerciali, ristoratori, residenti che in questi giorni si sono lamentati proprio della presenza di ingente di ospiti della struttura del Felicioni. Noi stiamo attenzionando come Fratelli d'Italia la situazione non è possibile che la zona sud frontemare di Roseto diventi un ghetto. Tra i tanti ospiti infatti sono diverse le nazionalità, c'è il rischio di faide interne, c'è il rischio appunto di uno scontro sociale e ci chiediamo perché a differenza degli anni passati non siano stati attivati dei progetti di integrazione, dei progetti di servizio per la comunità da parte degli ospiti del Felicioni.